Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi parliamo di soli, rimanere soli. Mi scrive una signora d'Amburgo, Germania, la quale mi dice, dottore, com'è che mio marito vuole sempre restare solo? Mi dice sempre, hai da fare perché devo fare delle cose da solo, bla bla bla, cerca sempre la scusa per rimanere solo e quando va in giro vuole andarci sempre da solo. Perché così e cosa si può fare per far sì che lui vada in compagnia con me? Io gli ho risposto che bisogna prima di tutto indagare sul proprio subcosciente, sulla mente profonda del marito per capire perché vuole stare da solo, in quanto il subconscio non è altro che la nostra memoria storica, magari non ci dimentichiamo con la coscienza, che cosa è il motivo per il quale facciamo una cosa. Il subcosciente è come una scatola nera che registra tutto e ci restituisce in comportamenti, azioni, soma significa corpo, mente, vita visibile e invisibile, ciò che noi abbiamo dimenticato ma che abbiamo acquisito quando eravamo ragazzini, bambini. Per cui magari bisogna indagare nel proprio subconscio, nel subconscio del marito e capire il perché vuole stare sempre da solo, il perché ama la solitudine. La cosa più semplice da capire è la sua famiglia d'origine, chi nella sua famiglia era sempre da solo, da sola e da lì si parte. E questo diciamo è la causa, perché nel subconscio esiste la causa e la soluzione ad ogni problema, anche non risolto dalla scienza, aggiungo, ok? Perché la scienza non è il padre eterno, è ottima, bisogna sempre seguirla, andare a utilizzarla, tutto quello che vuoi, ma non è il padre eterno. Per cui il padre eterno è la tua mente profonda, è il tuo subconscio, che può fare il miracolo della tua stessa mente, senza se, senza ma e se sai come fare. Per cui la soluzione alberga nel tuo subconscio, nel subconscio della persona che è solitaria. Perché? Perché se cambi le immagini, le emozioni che sono presenti nel tuo subcosciente, tu torni ad essere o diventi una persona associevole, che ama stare con gli altri, che ama andare in compagnia con la moglie in questo caso. Come fare? O da soli, ma il percorso è lungo. Oppure tramite degli audio mp3 dcs che eliminano, cancellano definitivamente il passato negativo, come ad esempio un capolavoro unico al mondo dal titolo no passato negativo, che ti scarichi in completo anonimato, comodamente da casa tua, in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi, abiti e seguendo l'istruzione e la lettera molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro, tu inizierai a cambiare. Poi ci sono altri audio mp3 dcs dal titolo no timidezza, in questo caso no vergogna, ego entusiasmo, eccetera eccetera eccetera. Bisogna capire che cosa c'è nel tuo subconscio, perché nel sottoscritto, negli associati e nell'editore noi non facciamo diagnosi, né cura, né terapia, per cui devi sempre essere te o il professionista della salute o il tuo medico a dire cosa hai e cosa non hai, ok? Per la famosa diagnosi. Per cui poi per il tuo marito che magari se vuole l'aiuto si fa così, lo fai partecipe e vedi se vuole, ma se non vuole e sempre a fin di bene tu puoi, però in questo caso sta a te solo la responsabilità per mettere comunque questi audio mp3 dcs seguendo la lettera, le istruzioni molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro e anche se una persona non vuole o non può, può veramente ottenere il cambiamento per il proprio bene e il bene dei propri cari. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni, perché sono spessissimo all'estero. Visita il sito internet www.impronologiassociati.com, la mia fanpage su facebook, Impronosi, Impronosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale youtube benessereipnosi, soluzioni di ceste del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel guida, quella molla che gli può cambiare la vita per il bene proprio, il bene dei propri cari e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter benessereipnosi, soluzioni di ceste del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio, amico mio, amica mia e alla prossima, ciao!